La zona orchidea è una medicina per l'anima, oggi vi presento dei medicini piccolini che sono della collana, la zona orchidea è una medicina per l'anima numero 1 è la phalaenopsis, numero 2 è catece, invidio e mevanda numero 3 è l'orchidea degli semi, che sono i più piccoli di tutti e numero 4 è l'orchidea è una medicina per l'anima mentre le altre stesse sono le orchidee come coltivale, le malattie e tutto quanto l'invase, questo qui invece è sulle mortiere che c'è delle orchidee e poi c'è un quinto che però c'è solo ebook, che è l'orchidea amore e psiche e anche quello è sull'anima delle orchidee la pianta di oggi, che costa due euro e mezzo, la trovate su Amazon perché è fatto con Amazon questa qui è una produttore di sgrovi, guardate che bella quando è tutto fiorito è spettacolare il produttore di sgrovi è una delle più diffuse, proprio diffuse su tutte le Ande e dappertutto e c'è in tante varietà questa è la varietà classica proprio perché è una grandissima diffusione geografica e anche molto adottabile perché quelle che hanno una grande diffusione geografica sono molto più tolleranti mentre quelle che vengono da una singola zoda vengono solo da lì, da quel posto lì sono fatte per vivere a quel posto lì e non si adattano molto bene a cose diverse mentre questo che è una grandissima diffusione va bene un po' tutto però è molto carino quando è tutto fiorito è veramente spettacolare come ho chiesto degli semi, niente male allora ieri qualcuno mi ha detto che aveva parlato dell'orto biologica mi ha detto qualcosa di più sull'orto biologica sì, oggi quasi tutti i fitofarmaci sono stati proibiti con i pochi che c'è si può comprare solo col potentino che si può comprare liberamente sono pochissimi proprio pochi, pochi, pochi è giusto che sia così perché se ne è fatto un abuso un mese ormai veramente io mi ricordo che nel 2018 c'era allora prima o dopo le previsioni del tempo sull'interessere sempre le pillole di Luca Mercalli e mi ricordo che nell'aprile 2018 aveva detto in una di queste pillole che in Italia si vendono ogni anno non mi ricordo più quante migliaia di tonnellate di agrofarmaci che divise 60 milioni di italiani fa due due chilogrammi a testa agrofarmaci vuol dire quali per la per le piante così sia che quelle per gli animali la zootecnica però si vede un casino di questo si usa un sacco mi ricordo i tempi quando andavo all'ortomercato quando andavo al mercato dei fiori a sabato perché il mercato dei fiori apriva alle 7 del mattino alle 8 8 e mezza al massimo poteva venire a casa che era finito però a sabato dalle 10 e mezzogiorno entrava al pubblico ora a sabato ci fermavamo perché veniva dentro veramente un sacco di gente però dalle 8 8 e mezza così arrivare alle 10 ora spesso andavamo con due amici dell'ortomercato dei fiori andavamo all'ortomercato quando andavamo a settembre allora c'era un prodotto un fungicida per la botrytis che aveva un odore particolare quando andavamo al mercato a settembre sentivamo questo odore fortissimo chissà quanto c'era su quello lì e perché è un prodotto molto usato per la botrytis appunto l'uva è molto soggetto alla botrytis soprattutto quando piove se non gli dai quel prodotto lì poi è sacco di muco chissà quanto ce n'era su chissà quanto l'abbiamo mangiato ha mangiato quello lì e così tutte le altre cose vabbè comunque ho trovato questo l'orto biologica io io conosco solo questa ditta qua che si chiama BioPlanet non so se ce n'è altre in Italia so che ce n'è altre all'estero ma in Italia c'è solo lei penso che ci sia solo lei si chiama BioPlanet BioPlanet mi pare che di Cesena e noi abbiamo cominciato tanti anni fa l'avevo fatto con il dottor Appinini quando c'era ancora il dottor Appinini e la sera di là c'era un banco di Fallenopsis che c'era solo con cediglia e Appinini mi pare da che proviamo l'orto biologico proviamo allora abbiamo preso allora si chiamava Biolab quella che adesso si chiama BioPlanet e abbiamo ordinato questi insettini qua che si chiamavano Crisoperlo allora il dottor Appinini perché adesso ci sono altri più efficienti però questi qui dato che non volano bisogna mettere su delle strisce tipo stile affinanti sempre le piante in modo che passano dalla pianta all'altra senza scendere e salire abbiamo messo queste strisce qui in un attimo è sparita tutta la cuciniglia dopo questi insetti qui allora si chiamava Crisoperla facevano la moto mettevano le ali e ballavano via però in un attimo ha sparito tutta la cuciniglia adesso qui lo facciamo ancora soprattutto d'estate perché quegli insetti che prendo io d'inverno sono un po' rallentati bisogna vedere se magari hanno altri tipi guardate è una cannonata perché risparmio ci vuole un sacco di tempo perché qui dobbiamo fare 4-5 macchine di quelle lì che adesso sono elettriche a spalla a passare dappertutto il rischio di dare veleni che comunque sia sono sempre veleni e non è che va tanto bene essere respirati così maneggiarli tutto quanto conservarli arrivano quelli lì arrivano perché le ordinate il giorno dopo arrivano li tirate fuori mettete qui un pozzettino qui un pozzettino lì un pozzettino là in un attimo pulisco tutto allora la ditta si chiama BioPlanet BioPlanet se avete dei problemi così te le parlate a BioPlanet gli mandatela a me e loro vi spiegano cosa potete fare secondo gli insetti che avete poi per comprarvi dovete andare su verde pieno perché è sempre BioPlanet ma la ditta commerciale si chiama verde pieno che è quella che lì li comprate non è che costano almeno noi qui a fare il trattamento con l'epico c'è il tempo che perdi e poi maneggiare conservare tutti questi prodotti velenosi quello là corsa più o meno lo stesso non perdi tempo perché avete giù un vasettino qui un vasettino lì un vasettino là tre vasettini per tutta la sera queste sono 730 m4 quella sera qua vi puliscono tutto e per fare per passarla tutta ci vuole almeno almeno mezza giornata con la cosa lì a passarla tutto bene perché è dovuto passare bene bene sopra e sotto tutte le parti e questo qui preparare fare dispare tutto e poi c'è sempre il pericolo che c'è dentro questi veleni in serra mentre invece questi qui non c'è dentro niente c'è dentro questi insertini qua che mangiano tutto e buonanotte io ve li consiglio vedete voi se volete fare una prova telefonate come costo qui fare un trattamento chimico un trattamento così costa più o meno lo stesso tanto vale fare questo qui che è più efficiente ok ciao a domani